Buonasera a tutti quanti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo fare un video tag natalizio, scusate il buio ma fuori stava facendo notte quindi ho acceso una specie di ring light però la cosa non è servita tanto. Nulla, volevo fare un video tag natalizio, ho preso questa idea da una youtuber chiamata Ombretta che vi metterò il link sia del video che del suo canale che è stato ideato da un'altra youtuber. Allora iniziamo. In specifico è, la domanda principale è, in questo periodo ami più? No, sono varie domande. La prima domanda è, in questo periodo ami di più cioccolata calda, tè o tisane. Allora in questo periodo non prendo nessuno dei tre, però cioccolata calda. Poi libri o film, film, maratona di film natalizici nei panettoni italiani o film americani, film americani, natalizi americani. poi commedie o classici o cartone animati? Commedia? No, cartone animati. Poi sinatra o bublè? Ovviamente bublè, ovviamente. Rosso o oro? Tutte e due. Profumo del Natale 2019? Non lo so. Fate i biscotti, il profumo di casa tua? Non c'è un biscotto, non c'è un profumo a casa mia, quindi non mi so dire. Poi fate i biscotti o pasta fresca? Non facciamo niente, però non facciamo niente. Poi vimbrulè o punch al mandarino? Vimbrulè. Camino, candele o lucine? Camino. Poi albero o presepe? Tutte e due. Pranto di Natale? Carne o pesce? Carne ovviamente. Cioè se fosse per me mangierei soltanto carne, ma ovviamente si deve mangiare pure il pesce. Pandoro o panettore? Pandoro toda la vita! Dolce o brat? Non so cosa sia il brat, però dolce. Bollecine o champagne? Champagne, champagne. Tagga chi vuoi. Allora, io tagherei Roberta del canale Woman Chic, Cinzia del canale Cinzia Makeup, e chi altro? Queste. E poi comunque chi lo vuole fare lo fa, c'è un taggo chiunque. Cioè ho detto queste due persone, però taggo chiunque, c'è chiunque vuole fare questo tag. È liberissimo di farlo. Nulla. Wow, è durato, sta durando pochissimo questo video, wow. Che vi posso dire? A parte che sono lucidissima, ma non so se vuole luce, oppure o stamattina ho messo troppo illuminante, oppure mi sto lucidando proprio io, non lo so. Mi piace questa lucentizza. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina vicino al tasto iscriviti, intanto vedo delle cose su Whatsapp, su Facebook. e magari se ti fai i cavoli tuoi, ok. Se il video vi è piaciuto, ovviamente, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e commentate, condividetelo dove volete voi. E che è tutto gratis, ovviamente. E nulla. Adoro questo glow. Lo vorrei avere ogni giorno. Vedete qua. No. È illuminante. Che ho usato. Un illuminante. Ho usato. Questa è la mia... La borsa che uso... Ho fatto la pochetta da tutti i giorni. Sto provando questa cosa. E come illuminante ho usato questo qua di Kiko, della collezione Gold Waves 01. Che sarebbe questo? Ci ho fatto anche il buco. Guardate. Le meravigliosità. Poi, per allungare un po' più il video, ho usato questo come fondotinta. Questo come fondotinta, l'Essence Fresh & Fit & Makeup, questo qui. Nella colorazione 20, Fresh Nude. come correttore ho usato questo qui di Paola P. Nella colorazione, questo è il 04, però quello che ho usato io è il numero 02, 03, non ricordo. Il Perfect Concealer. Sono andata a settare con questa cipria di Paola P. la Compact Powder. Che anche qui ho fatto il buco. Poi ho fatto contouring. Aiuto. ho fatto contouring con questa terra di Avon, della linea Mark. Che l'ho usata sia come terra, ovviamente, e sia come ombretto qui. E anche l'illuminante l'ho usato qui. Poi come prodotto per supermercato, ho usato questo di Mark della linea di Avon. Come blush questo di Ribella, il numero 02. Come mascara questo qui Wonderfully di Rimmel. Primer questo qui di Kiko, primer occhi. cos'altro? Ehm, cos'altro? Anzi, eh, come eyeliner ho usato sempre uno di ecco, uno di Paola P. Il Perfect Liner numero 01. Poi, come, invece, come rossetto, ho usato questo Chubby Stick di Clinique nella colorazione A82. Vabbè, questo colore qui se l'ho picchiettato così è nulla. Ripeto, il video è finito, finalmente. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, che è tutto gratis. Un bacio.